Salve a tutti, siamo tornati anche su Spore e ci sono due creature confuse che non sanno cosa stanno facendo Va bene, si comincia alla grande direi Allora, vediamo un po' in questo episodio Vediamo di fare almeno altre due tribù Vediamo se farsi le amiche oppure uccidere tutti Villaggio Lavanda Villaggio Verde si fa amico, perché il verde merita Ma che c'è qui? La fila? Siamo alla posta? C'è la fila Che cosa, che cazzo fate? Oh bravo, oh Allora, vediamo di farsi Questi sono con la faccia un po' un cazzo Allora, vediamo di Di costruire Qui che abbiamo Che vuole? Costruiamo anche questi che? Corni di legno Non so, non so Allora, vediamo di fare una cosa equilibriata Prendiamo in nove Allora, intanto mangiate Ok, vai piove Allora, in quattro Si equipaggiano con questi Corni di legno E gli altri quattro Con la vvzela Ok Poi si selezionano tutti E si va al villaggio verde Questo è il capo Mettiamo Pacifico Vai Via Doni Che doni Eh mi sta offrendo un regalo Tu torna qua Grande Quindi Madina Oh che volesti vai via Allora qualcosa sta accadendo Porto il regalo Andiamo un po' Neutrale Ah ok Almeno è un cazzoso Dov'è? Tornano dietro Occhio Oioi Eh vai Rutta rutta Pussa via Dov'è? Non man Boh l'avrà preso il regalo Non so Ma che sono di nuovo affamato Via mangiate un po' Poi mangiate Poi si riparte E c'è la fila Ci vuole il numerino Vado là Uno Due Vai Tutti pronti Allora si riparte Andiamo qui Incendiario Dov'è il capo 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 Eccoli che stanno arrivando Formazione aerea Dov'è? Vai Informazione Vediamo cosa chiedono Corny O DJ Renderow Do-do-do-do-do Corny DJ Renderow Va bene Va bene Chiesto soltanto VVZELE Rifacciamolo Vediamo se si fanno Alleati Tanto ci hanno rubato Del cibo Maledetti Bastardi Chi è che ci ruba Il cibo Questo stronzolino Vedi Vabbè Morto di fame Dai Ce la fa? Oh vai Quanti sono? Ci chiedono le stesse cose? Ah Vedi Ce l'ho Ce l'ho Grande Vai Fatti Alleati Oh lì Un altro totem Balla torre Allora Villaggio verde Alleata Sì Il totem Rappresenta L'Alleanza Nuovi strumenti Nuovi abiti Al posto ALEE Grandisce Dell'altro Questo bastardo Ora l'ammazzo Ok Massimo di 12 membri Nato un altro Villaggio Questi sono Cattivissimi Attenzione Facciamo subito Nuove unità E tre Vai E' nato Breno Vabbè Allora Dato che il villaggio Alla nascione Sono cazzuti E cattivi Allora Vediamo Vediamo Se si fa Nove armi Torce Infuocate Non so quale è meglio Eh le lance Ce le ho già Consentano Qui che abbiamo Le maracas Facciamo le maracas C'è che poggiamo di lance Almeno si attacca a distanza Vai Anche le Le nuove creature Sono cresciute Tranne l'ultima Eccolo Vai Tutti Da guerra Ok Vediamo Se ci sono Nuovi abiti Per il combattimento Allora Direi di Con questa maschera E' un po' più piccina Magari Socializzazione Vai Così Nermuso Poi si toglie Questo E si mette Questo Combattimento 3 Attenzione Una cravatta Che cos'è Eh Piocchettina Un babero E a questo punto Non ho più la raccolta Però Salute 2 Socializzazione Tanto ce l'ho già 5 Questo si leva E si mette Un raccolta 3 Cappello Al fornoio Piccino Vai Prometti Sta bene Vai Alla grande Vai Siamo pronti Si va Dagli arancioni Non lo so Meno Si 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 Loro Sanno le Fiaccole Oh no Aspetta Stanno inviando Un regalo I verdi E ripiove Eccoli In arrivo Vai Poggimelo Dove vai Recupera Grazie Grazie Tra l'altro Sono bagarozzi Anche loro Vabbè Tutti bagarozzi All'assalto Degli arancioni Che sono Bacarozzi C'è troppi Via Ora voglio provare Queste Abilità Particolari Boh Dov'è 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 Stanno arrivando Un attacco strategico Questo Qualcuno E' schiattato Trappole Capo tribù Se ne è andato Vai 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 Vabbò Rimaste in tre E' rimasto L'ultimo Da solo Vai All'attacco Mi stanno attaccando Chi? Non è vero Giustamente Le lance C'era scritto Che sono efficaci Da lontano Però mi sa che Contro le costruzioni Con calma Dai dai Sta andando a fuoco Eccoci Eccoci Vai Alla grande La nostra torre Va avanti Il totem E' quasi completo Esatto Ci manca Un villaggio Ok Torniamo Verso casa Si può fare Un'altra creatura Si E' nato Zelvaldo Attenzione Ehi ehi Chi è questo? E' qualcuno Che arrivi Uccidete Bravi Vediamo cosa Ho sbloccato Ah l'ultimo Giustamente Ah Badagans Equipaggio Membri della tribù E possono Curare i compagni Non ne ho bisogno Ok Il villaggio verde Ci sta Offrendo Un altro Regalo Eccoli Che sono Arrivati Vai Grazie Oh vai Bene Rimasto L'ultimo Villaggio Ma sono Tutti Uguali Tutti Bagarozzo Sono Sono In nove Boh Villaggio Tranquillo Vediamo Che trattamento Riservare A questi Vai Il villaggio Rosa Un altro Regalo Troppo Gentile Troppo Gentile E Ripiove Madagano Dov'è Aspettiamo Che arrivino Questi Vai 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 Levati Diulete Vai Vai Tac Tante grazie Tante grazie Bene Questo episodio Finisce qui Nel prossimo Vediamo Che trattamento Riservare Al villaggio Lavanda Di modo Da finire Anche Quest'altra Fase E passare Alla Successiva Quindi Per ora È tutto E Ciao 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 Grazie a tutti.